smart city voci e luoghi dell'innovazione di maurizio melis buonasera cari ascoltatori benvenuti a smart city è vero che i veicoli elettrici hanno emissioni inferiori a quelli a benzina e diesel beh se ci limitiamo quel che esce dal tubo di scappamento è evidente come non ci sia partita tuttavia se si approfondisce l'analisi e si amplia il perimetro di osservazione è altrettanto evidente come sia necessario considerare le emissioni dovute alla produzione dell'energia elettrica con cui si caricano le batterie nonché anche all'energia necessaria prima a fabbricare poi a smaltire le batterie appunto dei veicoli elettrici intorno a questi ultimi aspetti si è sviluppato un dibattito acceso dove l'attesi di alcuni evidentemente è che fatti tutti i conti il vantaggio offerto dalla motorizzazione elettrica si riduca fino ad azzerarsi o addirittura a peggiorare il bilancio delle emissioni solo pochi mesi fa anche al sottoscritto è capitato di partecipare a un convegno nel quale si cercava diciamo di dare sostegno a queste idee e allora cerchiamo di fare chiarezza a partire da uno studio pubblicato da rse ricerca sistema energetico che è certamente l'ente di ricerca più titolato almeno in italia fare questo tipo di valutazioni ente che ha da pochissimo pubblicato un dossier intitolato auto elettrica e decarbonizzazione di cui abbiamo in linea il coordinatore nonché responsabile dell'unità che presso rse si occupa degli studi di life cycle assessment pierpaolo girardi buonasera girardi buonasera allora partiamo dalla questione carburante chiamiamola così che in un caso sarà benzina e diesel nell'altro sarà l'elettricità che io butto dentro al veicolo la quale può avere diciamo alle spalle delle emissioni di co2 ecco è possibile che queste emissioni superino quelle del benzina e del diesel cosa dicono le vostre valutazioni in realtà no non la superano soprattutto se consideriamo auto che sono simili per potenze e prestazioni diciamo che la produzione di energia elettrica in italia ad oggi ha un'emissione di co2 equivalente di circa 450 grammi a kilowattora quindi l'energia che entra in una macchina per percorrere 100 chilometri produce un'emissione di circa 80 grammi di co2 equivalente mentre percorrere la stessa distanza con un'auto diesel o benzina avremo delle emissioni di 130 o quasi 150 grammi di co2 per 100 chilometri ecco l'italia però anche un paese che è un mix favorevole dal punto di vista energetico parecchie rinnovabili e molto gas se facciamo un caso diverso quello della polonia per esempio 70 per cento di energia elettrica prodotta col carbone questo rapporto si inverte il rapporto non si inverte ma ovviamente le prestazioni si avvicinano molto è uscito di recente uno studio nel 2018 pubblicata su una importante rivista internazionale che appunto confronta auto elettriche e auto a combustione interna e anche nel caso polacco caratterizzato da questo mix particolarmente sfavorevole forse il più sfavorevole in europa le auto elettriche hanno dimostrato di avere un vantaggio rispetto alle auto convenzionali benissimo e abbiamo messo da parte il primo punto adesso ragioniamo invece sull'altro aspetto controverso cioè l'energia che mi serve per costruire queste batterie che sono degli oggetti abbastanza appunto energivori e poi per smaltire queste batterie qui che cosa succede rimane questo minore impatto del veicolo elettrico le cose cambiano anche in questo caso secondo i nostri studi il anche considerando quindi il ciclo di vita della batteria che di cui è dotato un'auto elettrica le prestazioni del veicolo elettrico rimangono migliori rispetto a quelle delle delle auto convenzionali e questo ovviamente ha eseggetto a una maggiore variabilità nel senso che le tecnologie che si stanno sviluppando per le batterie sono sono diverse sono diverse le chimiche ma sia il nostro studio sia una serie di altri studi internazionali hanno dimostrato che comunque il contributo aggiuntivo dovuto alle batterie non è tale da compromettere di preferenza benissimo e ricordiamo che anche qui dipende poi da dove sono prodotte queste batterie con quale mix energetico sono prodotte su questo ci torniamo dopo parliamo di un altro aspetto tra l'altro molto di attualità che è quello delle polveri sappiamo che comunque i nuovi diesel ne mettono abbastanza poche dal tubo di scappamento per cui si dice ma lì non cambia niente è vero allora diciamo le polveri attualmente emesse dalle auto omologate diciamo adesso quindi in questi giorni sia diesel che benzina dal tubo di scappamento sono molto basse sono rilevanti ormai le polveri che sono emesse per astritto quindi ruote asfalto e freni diciamo che l'auto elettrica rispetto alle auto convenzionali oltre a non emettere quel poco particolato dal tubo di scappamento ha anche il vantaggio di usare praticamente per nulla i freni e quindi un terzo della componente di emissioni di polveri sottili da attrito nell'auto elettrica è quasi nulla certo perché si frena diciamo così magneticamente per ricaricare le batterie e quindi esattamente quando io tolgo il piede dell'acceleratore l'auto sta già frenando in molte auto si agendano già gli stop giusto per renderci conto di cosa stiamo parlando in più le auto a combustione interna in particolare i diesel hanno comunque un'emissione residua di ossidi di azoto che è un gas che contribuisce a formare il particolato in atmosfera quindi anche se emettono molte meno emissioni di particolato emettono alcuni gas che tutti insieme contribuiscono a formare quello che viene chiamato particolato secondario dunque Gerardi una cosa che voi sottolineate inoltre nel vostro studio è che spesso i confronti tra elettrico e benzina vengono fatti assumendo delle metriche che penalizzano l'elettrico assolutamente sì non so se in buona o in cattiva fede spesso vengono considerati i consumi non corretti ovvero i consumi legati ai vecchi cicli di omologazione vengono considerati durate delle vite basse intorno ai 150.000 km o anche meno che vuol dire sfavorire un'auto come quella elettrica che concentra i suoi impatti nella costruzione se poi nell'uso ne ha pochi e poi alcuni considerano anche scenari improbabili di sostituzione di batterie cosa che non è detto che non venga oppure scenari di mix energetici totalmente fuori dal vero sia adesso che in prospettiva in prospettiva perché la quota di rinnovabili inevitabilmente aumenterà e soprattutto tutti gli studi scientifici vanno nella stessa direzione tutti gli studi scientifici vanno nella stessa direzione ovvero che le auto elettriche comportano un vantaggio non solo per l'inquinamento ma anche per le emissioni di energia di carbone che è equivalente e insomma conti alla mano diciamo la tesi dell'elettrico che non riduce le emissioni non regge nemmeno negli scenari più pessimistici e quindi gli afficionados del motore a combustione di questo si dovranno fare una ragione io la ringrazio Girardi a me è l'effigio che c'è lei a me è l'effigio che c'è lei